Stop alle nuove regole sulle internalizzazioni sanitarie in Puglia. Per questo hanno manifestato nell'ambito di una giornata di sciopero circa 200 dipendenti delle Sanita Service pugliesi. Lamentano l'improvviso dietrofront della Giunta Vendola che dal 2008 aveva escluso le cooperative esterne per l'espletamento dei servizi di pulizia, guardiania, mensa 118 e CED. Un percorso bloccato inspiegabilmente a gennaio scorso sostiene il sindacato. La Regione infatti ha recepito le norme della spending review del precedente governo scavando la fossa alle società in house che attualmente gestiscono i circa 7.000 dipendenti internalizzati. In pratica le società pubbliche rischiano di sparire in base alle linee guida regionali e i servizi ai dipendenti nuovamente appaltati all'esterno. Un passo indietro dettato dal pressing delle lobby degli imprenditori attacca l'USB che ha chiesto a più riprese un incontro con governatore Vendola e suggerito all'Aggiunta l'utilizzo dei fondi europei per risolvere la questione. Servizi che in questi anni di internalizzazione hanno prodotto un miglioramento sia della qualità del servizio sia dei conti in bilancio sia delle condizioni dei lavoratori.